Qui e dove li bloccheremo! Qui e dove combatteremo! Qui e dove moriranno! Onoratevi scudi spantali! Ricordate questo giorno, uomini? Perché questo giorno è vostro e lo sarà per sempre! Ricordate questo giorno, uomini! Attenzione ai blocchi, il pallone per Montolivo, siamo a 35 metri, parte Montolivo, la girata Montolivo, il pallone per gare per Nyanga, è in vantaggio nei confronti di Fuyol, Nyanga ancora in area di rigore, gira per El Sarawi, l'apertura, attenzione, Montoli, Rene, 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 Montoli! Grazie per la visione!